o la luciadores e morigerati mantecatori di manticore ben ritrovati dal vostro silver e dal silverius siamo qui in questa gioiosa zona delle tombe desmentegade perché dobbiamo andare a ciucciarci una brace che come vedete sto sprecando in maniere copiosi e niente diamo diamo a vedere un po quello che ci aspetta se riusciamo a risolvere un po la questione ecco io nel frattempo mi sono concesso due cosine in vostra assenza no no la pizza stavolta anche se in realtà ho mangiato una pizza fantastica con l'arancia una cosa che non mi sarei mai aspettato è inutile divagare sul tema anche perché sto non morendo di fame quindi essendo la famosa pausa pranzo del silver e quindi ok torniamo a noi parliamo di cibo diventetela di stigarmi a questi discorsi ecco come vedete sto facendo più fatica del solito questo perché perché in vostra assenza sono rimasto senza la linea internet a casa a causa di un ubifragio quindi non so nemmeno quando questo video potrà essere benissimo ho perso tipo qualche centomila anime perché sto divagando incazzate fantastico e ho pure spiegato l'enerima brace mi converrà a lasciare buonanotte perché se no va bene stavo dicendo sto facendo più fatica del solito perché perché sto creando un secondo pg la famosa cristilla che dopo bloodborne torna a farci compagnia anche in dark souls 3 perché forse riusciremo ad accorciare l'esperienza dall'attesa del quarto finale facendo una rampa rallela e quello la sto giochichiando così beatamente bellamente ad affaracci miei e la cosa fantastica è che li sto usando una spada e mannaggia i pesci non vi dico quanto sto odiando i pugni ora che sono tornato a usare una spada loro li odio pesantemente specie perché loro sono veloci a me questo scudo veramente mi ripara come una sciarpa in una tormenta grazie e vediamo di corrercela via perché tanto molto presto arriverà anche l'esimio collega e sinceramente rottura di miglia tra l'altro vediamo come lo spostare un falò differenzi la difficoltà nell'affrontare una zona una zona più difficile il falò è più indietro e via dicendo e qua di nuovo si sente la mancanza di quella fantastica possibilità che si paventava grazie quella fantastica possibilità che si paventava di avere un come si dice la possibilità di sacrificare npc o qualcosa del genere per poter realizzare dei falò a piacimento o a piacenza vediamo e voi direte ok tanto silver non lo si può fare che cacchio te ne lamenti ma non è che me ne lamento ma sarebbe stata una cosa fighissima sia in termini di gameplay che in termini di lore che in termini di molte cose lo stavo cercando lo stavo aspettando non lo vedevo ma l'ho sentito l'ho sentito particolarmente sui denti e sono cose che ti fanno riflettere sulla caducità della vita specialmente mentre fai un attacco in caduta ok il nostro personaggio potrebbe essere un esimio campione di caduta libera mi stai già cacando la minchia con le freccine mi stai già dicendo questo va bene siamo due idioti santa polenta cotta e mo basta però che palle si fra l'altro che palle proprio dove mi hai beccato e poi ti parte quella freccia in più quella scoccata senza un senso preciso quella che ti arriva nel bel mezzo della notte e te la trovi proprio nelle gonadi allegramente allora vediamo di levarci dalle biglie lui che dovrebbe appunto risalire la corrente come i salmoni nel polso la freccia nel polso ti curi figlio di zoccola ma zoccola grossa vabbè allora facciamo così io di te me ne frego e vado bellamente a scassare le palle a questo che poi comincia a spararmi roba tra l'altro bellissimo che non ci aggra quando siamo vicini a lui ma ci aggra alla distanza diciamo che nasce balestriere e muore stronzo che è una cosa che è bene e bene rendersene conto nasce balestriere e muore stronzo magari mi dai anche dei dardi no va bene dardi e codardi potrebbe anche rima con petardi sprechiamo un'altra gioiosissima brace e con gundir avere un bel po di vita in più e un alleato sapido sapido a me sinceramente non fa schifo non fa schifo potrei farlo da solo lo sto facendo quei pugni sono sempre più pentito delle pugnette il brutto ha ancora da arrivare quindi ve la raccomando ve la raccomando ma con gioia ve la raccomando con gioia una domandella a cui gradirei che qualcuno di voi rispondesse senza fare polemica e scazzano il gruppo qualcuno ha provato a far cadere gundir nel vuoto facendogli fare un attacco in salto caricato male io ci ho provato un paio di volte ma non è mai andata bene diciamo che una volta mi ha buttato in aria e quello che ha fatto la figura dello scarapottuto sono stato io e non è mai stato bello mai quindi così per curiosità mia pure semplice niente la smette di fare il balotto grazie ecco sono queste le cose che poi rischi non ho ben capito come mi abbia beccato ma ok e diciamo che non so se ha un sistema antigravitazionale che mi permette di non cadere mai nel buco cosa che a me potrebbe capitare già la mattina quando vado in bagno perché a certe ore non tutte le dinamiche della fisica quantistica mi sono chiale quindi guardate quanti attacchi in serie riesce a portare la bellezza di 6 attacchi potenti 7 8 e tua nonna non un attimo di pausa e lo spadaccino questo serve lo spadaccino questo serve a ciacciarsi un attimo di respiro perché veramente no porca tra l'altro il move set di gundir è qualcosa di micidiale mi piace un sacco è una boss fight veramente stupenda forte trasmette potenza cioè bella mi piace veramente tanto sono sono oltretutto molto contento che vada fatta addirittura due volte non so che potrei sembrare folle nel dirlo ma mi riempio di gioia mi riempio di gioia e di cotenna certo se adesso non mi faccio ammazzare sul più bello magari è esatto vanno già dato in passato questa cosa quindi preferivo evitarla preferivo evitarla anima di gundir il campione quanto mi piacerebbe scoprire che queste lapidi si possano leggere abbiano qualcosa da dire perché fondamentalmente di teorie ne sto facendo tante ci sto facendo tanti ragionamenti e ne ho di cose che voglio portarvi e raccontarvi questa cosa mi mi entusiasma perché sto trovando tanti piccoli riscontri che mi danno la possibilità di pensare che non tutto quello che sto concependo sia sbagliato credo che non manchi poi molto a sbucar verso la fine di questo di questo diciamo di questa esperienza perché la seconda run fondamentalmente un'esperienza diversa dalla prima sinceramente a me sta dando molto anche in questo caso e mi ha dato la possibilità di riflettere su cose che avevo anche colpevolmente trascurato devo ammettere e questa cosa questa cosa mi riempie di gioia mi riempie di gioia perché quando riesco a ottenere qualcosa in più da quello che già avevo io sono una persona estremamente felice mi piace anche andare a creare teorie strampalate lo sapete però alle volte queste teorie possono nascondere anche un briciolo di verità questa è un'altra battaglia di quelle che sei felicissimo di doverla fare a pugni nudi con un hitbox da nano della mesopotamia e va andate a fanculo voi e tutti i vostri amici veramente ve lo dico con somma gioia anche perché io da pistola e dai merito pistola ho ben pensato di non andare no dai adesso veramente sei rimasto con uno sputo proprio di me l'ha spostato sul più bello tanto tu so che non entri sei una persona discreta mandetto è mandetto ok però vai a scassare le palle da un'altra parte magari no eh ok prima o poi anch'io sarò in grado di usare armi così fighe non vedo l'ora di essere un new game plus plus in modo da poter andare a usare tipo la spada della luna e via dicendo perché voglio voglio tornare a darmi a due mani con un'impugnatura un'elsa una cinzia e altre cose per piacere allora qui come vedete c'è la famosa tomba di sirris qua sotto mi dissero guardate vedete un riflesso là sotto qualcuno sostiene che sia l'ingresso del dlc e questo giustifichi anche la presenza del diciamo del dell'ipotetico suicida sull'orlo del baratro stando a mamma from no stando a mamma from no loro ritengono che sia semplicemente stato un errore di cancellazione di un riflesso di luce quindi diciamo che ci tocca pazientare per scoprire se è una cosa per coprire diciamo il fatto di essere stati abbastanza sgamati anello del calabrone ma non più uno e io vi direi che se dovessi trovare anche la spianata del calabrese in questo momento schifo non mi farebbe allora facciamo così stavolta ve lo dichiaro apertamente facciamo un piccolo tagliacucci che vado a mangiare un boccone perché gna faccio più della fame a frappe e ciccia per una serie di eventi divertenti indipendenti dalla mia volontà sono le 9 e 35 credo del mattino del giorno successivo non ho fatto tipo 14 mila ore di pranzo no semplicemente sono stato chiamato al lavoro immediatamente sono dovuto andare poi alla sera non ho potuto registrare per una serie di svariati motivi che non starò a raccontarvi però se volete ve li racconto e niente sono successe cose quindi ciccia non ho non ho potuto registrare subito quindi niente sembra un video tutto teccato ed è stato fatto due giorni di distanza fra sé e sé sono cose belle sono cose belle che ti rendono la vita un posto migliore diciamo e intanto vi chiedo venia preventiva se per caso in sottofondo sentite dei rumori tipo sfruguglio fruscio e via dicendo purtroppo ci sono tipo 37 gradi fuori da casa ho un cantiere come avevo mostrato in un video dell'anno scorso lavori sospesi per un anno e li hanno ripresi di nuovo d'estate e niente stanno scavando crateri vulcanici lunari e robe simili quindi ruspa a tutto andare e questa cosa fa sì che io debba stare con la finestra chiusa quindi necessito di un ventilatore acceso perché vi lascio immaginare tv pay 4 pc scarafaggi a dondolo tutte cose accese che generano calore in una stanza chiusa in un giorno d'estate sono cose belle siccome ci terrei a non morire perché ho il bruttissimo ma bruttissimo vizio di non respawnare allora diciamo che grazie diciamo punto che ventilatore e mi dispiace se se ne sentisse il rumore dovrò controllare solo poi se si sente tanto poco nulla però non fatevi la colpa per piacere chiete nel frattempo io vado avanti nella esplorazione non mi ricordo quale altre cose interessanti vi fossero in codesto luogo nella sua veste oscura e silenziosa devo ammettere che mi piace un frappo visto così ma mette un'angoscia che lasciatelo dire veramente poi bellissimo io mi ero soffermato a ragionare sul fatto di trovarvi i cavalieri neri che fosse una cosa da un lato anche particolare però tutto rientra in quel famoso discorso delle teorie che vorrei farvi ma nel contempo non è così strano trovarvi cavalieri neri ed è molto affascinante il concetto di trovarvi la lama del caos se avete voglia di riflettere ci ci riflettiamo e ditemi voi poi se le teorie del silver vi interessano vi interessa solo la mia parte giocata con tutte le figuracce dal mentolo che posso fare eccetera 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 quanto è bello questo posto così tutte le candele spente tutto a me mi fa scattare il fattore wow sarebbe stato bello trovarlo pure qui eh essenzialmente non so se si possa trovare anche qui fra l'altro ho saputo non mi ricordo se ve l'avevo già detto in precedenza esserci un bug oh yeah bello 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 avevo saputo esserci un bug che permetteva di salire non so tramite quale pianta eh o quale salto fra virgolette quelle cose che ricordano un po' la parte iniziale di bloodborne per capirci dove prima che pacciassero la cosa si poteva saltare la ringhiera passare dal passaggio segreto dei boschi proibiti al contrario e figata insomma praticamente eh ho saputo esserci una cosa del genere anche qui non mi ricordo appunto se ve l'avevo già chiesto nessuno mi ha mai risposto in merito quindi presumo di non avervelo chiesto e mi affascinava di molto il concetto del pensare che anche qui si potesse sfruttare appunto quel glitch per salire lassù in alto e scoprire che si poteva usare il medesimo glitch per salire anche nella versione buia io fra l'altro ho teoricamente tentato di dare gli occhi ad irina però riflettendoci sono stato uno stolto perché perché gli occhi questi sono già di irina perché questo è il suo punto il suo luogo dove stare l'altro avete visto che sono elementi chiave quindi vengono tolti tra una rana e l'altra perché io li avevo poi recuperati uccidendo la guardiana del fuoco come va fatto eh oddio come va fatto se volete sbloccare determinati finali però diciamo un paio di occhi neri si dice appartengono alla prima guardiana del fuoco e siano la luce andata perduta da tutte le guardiano del fuoco successive svelano le guardiane del fuoco cieche cose che non dovrebbero mai vedere che sia per quello che fondamentalmente irina non è mai divenuta una guardiana del fuoco che sia stata bocciata all'esame della patente per le guardiane del fuoco a me questa cosa affascina come pensiero il fatto che lei sia entrata in possesso di questi occhi che l'hanno resa meno cieca e quindi non sono convinto di averle trovate nella prima run no no questo oggetto ci mette una perlomeno a me mette una tristezza allucinante l'altro stavo guardando una cosa che da un lato vi dico mi dispiace un pochino ma questi fabbri fondamentalmente battono il ferro finché è caldo ma a parte i fabbri di di demon soul non mi veniva il nome non c'hanno le fucine gli portiamo noi tizoni e questa è la cosa bella che non hanno bisogno d'altro allora a lei non possiamo consegnare le ceneri è vero non possiamo interessante da lei in teoria non dobbiamo comprare assolutamente nulla perché abbiamo praticamente già tutto abbiamo già acquistato il set di Artorias o elmo da cavaliere del lupo perché vi ricordo che fondamentalmente noi abbiamo un nome per tutti eppure solo Smaug ha la sua armatura specifica come se fosse un essere a parte rispetto agli altri questa cosa mi ha ulteriormente dato da pensare non è l'armatura del cannibale gigante come potrebbe essere è proprio l'armatura di Smaug l'unicità del personaggio che non è aspettata a nessun altro perché nemmeno Soler nemmeno Sigmeier nessuno ha avuto l'unicità sono cose che sono state tramandate dalla leggenda ma non hanno trascinato con sé i nomi perché? fondamentalmente anche questo si sposa un pochino con vada non cincischia ho capito si può sposare un pochino con le teorie del Silver stai attento a Brodo ah ma stai attento a Brodo e l'ho messa io come messaggio è una figata vero? quindi abbiamo due frammenti della spada spirale con cui possiamo viaggiare nello spazio-tempo ma in realtà ciccia ce ne basta uno è un po' come quando si ottiene la seconda piuma andiamo all'altare del vincolo direttamente e io vado avanti a ragionare appunto secondo la mia assurda teoria d'ambriagone sul fatto che appunto ci sia una sorta di molteplicità e ho trovato il personaggio chiave che può apparentemente giustificare tutte queste cose ma non voglio svelarvi troppo anche se si può anche facilmente intuire volendo eh allora offri cenere vediamo se con la cenere del vacuo possiamo ottenere qualcosa che non avevamo ottenuto prima d'ora ehm 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 non vedo nulla di è che c'è talmente tanta roba che poi diventa un casino identificare le cose e niente non boia d'un mondo le ceneri del vacuo che minchia boh fra l'altro stavo pensando giusto appunto sull'armatura di Artorias la cosa molto molto interessante è dettata dal fatto che la possiamo trovare solo di là nell'abisso qualcuno sa perché non se ne va no perché non si leva da cacchio mai non c'ha proprio voglia di lavorare dobbiamo andare a liberare Carla accidenti Carla Stracci ehm ok abbiamo pezzi di titanite quindi possiamo anche potenziare le armi eh che la piromanzia aspetta un attimo aspetta un attimo che forse è una cosa che ho aspettato per euni 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 salve vorrei riparare no rinforzare arma eh cosa vogliamo rinforzare scudo scudo del calesse santo di quel cielo si eh che poi ora non mi interessa neanche più potenziarlo lo scudo del calesse santo di quel cielo però vabbè eh mh eh pezzi sei quindi poi ne serviranno otto sono titubante c'ho proprio della titubanza perché fondamentalmente mi aumenta un pochino la stabilità e non è male anche se l'equilibrio qui mh vabbè l'ho fatto oramai l'ho fatto non è più tempo di tornare indietro questo tira solo frecce giganti ah ok si solo quel tipo di frecce quindi ciccia ciccia è fra l'altro il pasticcio siccome l'arco per noi però è una cosa abbastanza importante direi che possiamo anche tranquillamente ehm non mi aumenta lo scaling quindi ciccia puoi rimanere così un momentino sereno fai più danno però ok aspetterò a usare la lastra di titanite o di pignanite e niente direi che possiamo fare anche una veloce transizione verso verso Carla perché dobbiamo andare a recuperarla eh ciccia pepiglioni che gioia e si ritorna qui con immensa gioia però esatto abbiamo una grande shortcut in questo momento abbiamo una grande shortcut e non vi confessero mai mai che non avevo visto la leva non ve lo dirò mai non ho il coraggio porca miseria sto sto veramente a ricoglioni mettete anche in conto che come vi ho detto è la mattina del giorno dopo che è il martedì che è il mio giorno di riposo perché lavoro la domenica e oltre a essere incoglionito io approfitto sempre del ehi la non apprezzo mai troppo il saltare da queste altezze poi però beh anche perché vabbè possiamo fare un piccolo transumanze un piccolo transumanze qualsiasi cosa voglia dire sono ancora in gonfio di sonno perché vi stavo dicendo io il lunedì notte ne approfitto per montare i video eh per per montare i video buonanotte per editare i video una volta che li ho caricati e per poi crearli e aggiungerli alle playlist fare le copertine e via dicendo perché poi sto sveglio tutta notte a guardarmi il wrestling perché sono un patito di wrestling come potevate facilmente presupporre quindi mi guardo la diretta in notturna del lunedì di Raw e quindi vado a dormire attorno alle 6 del mattino vi lascio presupporre come ci si possa sentire alle 9 e mezza quindi yeah portate pazienza se sono ancora bello impastato ma d'altronde devo sfruttare a gonfio e vele il martedì perché se no ciecia perché oltretutto poi incombono le vacanze perché quest'anno il silver se ne concederà ben 18 giorni filati e vorrei riuscire a immagazzinare tantissimo materiale per non farvi mancare nulla figliuoli quindi vogliatemi bene pazientate e questo spiega anche perché tante volte in passato pubblicavo 5 video al giorno adesso ne pubblico magari uno solo ma questo mi serve ampiamente per fare fondo di magazzino in modo che i video continuino a pubblicarsi anche in mia assenza perché purtroppo in questi giorni tra un casino e l'altro tra i nubi fragi che mi hanno lasciato senza internet fra appunto l'accheraggio fra il lavoro fra mille altri cacchiamacchi sono cacchiamacchi va bene rientriamo nel discorso dell'impappinamento della lingua di prima praticamente sono potuto sono stato costretto non sono più in grado di parlare ma non è poi così importante vero non ho potuto produrre per tipo 15 giorni e non è stato bello non è stato bello non è stata una cosa che ci ha regalato gioia allora effettivamente la cosa fatta al contrario dà le sue porche soddisfazione o porchi o porche ehi ci hai provato ci hai provato numero uno per averci provato ti conferisco il dono del polliciazzo lì in su del silver però va bene tutto va bene che sono un minchione ma ogni tanto qualcosa di buono mi riesce anche a me mica sempre ho le prove che mica sempre mi riesce tutto buono neanche a me però ci proviamo ci riusciamo questo luogo affrontato al rovescio ci credete che per un attimo qui ho visto una scala sto proprio a rincoglioni non ce n'è non c'è verso c'è proprio cose brutte ma no sono salito troppo non dovevo salire così tanto Marianna cane non essendo proprio pratico del farla al rovescio e parlo dell'esplorazione prima che pensate che mi metto a testa in giù a fare vabbè non essendo appunto un abitué del farla al rovescio ho fatto casire scusate capita nelle migliori famiglie figuratevi nella mia cazzarola via no no qui mai qui mai via 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 come se ne esce da ciò come se ne esce da ciò morendo porca di quella puttana sono andato a infilarmi nel pertugino sbagliato con 109.000 anime appoggiate lì adagiate proprio nel vaffaculo più estremo con somma gioia porca di quella pupazza ce l'ho depauperato ecco per quello che dico quando sei gonfio di sonno silver dorpy torpy torpy farò uso del dito di 35 minuti mentre si diciamo renderizza il video porca di quella puttana dovevo scendere di là mare ma boia ladra impestata dovevo scendere dalla parte dove ci sono i dondoloni del dragone si quelli che meditano di andare alla vetta dell'arcizuffolo perchè sono una persona così stupida e sfortunata al tempo stesso perchè perchè qualcuno mi mi dia o la tacca sulla spalla virtuale perchè poi mi arrivano solo messaggi di gente che se la ride grassamente di tutte le bicchiate che faccio io poi piango non è vero che piango perchè alla fine quando mi riguarda le video sono il primo che si scompiscia e pensa al silvers è veramente un cretino quindi adesso arrivate anche in due vedete io sono fermamente convinto che il gioco un pochino questa è una convinzione che mi porto dietro da demon soul da dark souls che il gioco quando voi perdete le anime che morite da qualche parte quindi dovete andare a recuperare le anime ci si metta un briciolo di ansia è quello è dettato dal fatto che si voglia andare a recuperare le anime senza il rischio di perderle quindi questa cosa già influisce sulla giocata tipo non paghi di quello non paghi di quello abbiamo anche a che fare con un'altra cosa molto simpatica che è il fatto che secondo me il gioco annusa la paura ossia il gioco viene diventa leggermente più difficile nel momento in cui ma pochino pochino i nostri avversari diventano un attiminiello un peppiniello più questo giuro lo allora che non me l'aspettassi direi una minchiata perché fondamentalmente me l'aspettavo una cosa del genere me l'aspettavo però confidavo non succedesse devo essere sincero bene sto facendo una confusione totale sulla direzione da prendere non ne sono poi così convinto e gioioso santo belino ci mancava solo che fossero sparite delle texture non so se avete visto sono andato troppo veloce non ho permesso al gioco di caricarsi mi sono cagato la micchia che riprenda questa scessa sta venendo il vomito però devo ringraziare Pantegana Muschiata che mi ha suggerito una canzoncina giapponesoide per l'ascensore una di quelle cose angoscianti e non positive per l'umanità però possono creare incubi a chi prende l'ascensore quindi mi piace la cosa mi piace mi ha ricordato cose dell'infanzia altrui e niente quindi yeah allora speriamo che le nostre animelle siano al loro posto che io riesca a fare diciamo due passi senza morirmela e vedete quando avevo le anime ne è arrivato uno tutte e due le volte in cui non ho non ho avuto con me le animelle ne sono arrivati due probabilmente ve l'ho detto aumenta di quello 0,5 l'agro qualcosa del genere ci rende un filino più complicata l'andare a recuperare la nostra roba scusate la domanda ma santa polenta ah ok perfetto che culo ok bastava fare così sin dal principio fra l'altro ora ora ditemi voi domanda così spassionata con che bella devo prendere eh e voi siete stati lì a ridere a scherzare a pigliarmi per il culo e a godere delle mie delle mie capitolate e dei capitelli e anche di un paio di capitoni perché capita di capitolare di fronte al capitone soprattutto a natale che cazzo sto dicendo ma boh vabbè voi portate sempre tanta pazienza voi portate sempre tanta pazienza che un giorno uscirò dal tunnel della minchiazza che vado dicendo io sono uno che alle volte blatera blatera senza sapere ciò che dice però questo crea gioia nelle orecchie di chi mi ascolta presumo spero credo mi nut sembrano delle nutrie però queste non hanno i denti rossi e voi direte silver sei dal tonico che ti cambia se hanno i denti rossi ci avete ragione però ogni tanto è bello illudersi che la cosa abbia un senso allora io ora devo capire quale sia il luogo vabbè qualunque sia il luogo è una cosa infelice devo ripulire comunque la zona perché se passo di lì questi mi aprono il salvadanaio senza senza chiedermi nemmeno come va così in scioltezza e cattiveria con bra di pomissilità andiamo di mantenere le cose un filino wow e magari facciamo anche quella cosa che vi piace tanto che fa un po' retro aspetta aspetta che Mentre compievo questa mattanza con le freccine stavo anche riflettendo su una cosa una cosa non so se dire curiosa però fondamentalmente si può anche definire curiosa avete notato quanto in Dark Souls 3 le lanterne siano oltre che segnare la via perché il fuoco segna la via è una cosa risaputa e via dicendo siano state strumentalizzate fra virgolette per portare morte e disperazione perché le lanterne di questi aristocosi ci divorano la vita e nel tempo stesso quelli con la lanterna chiamano l'adunanza una cosa che abbiamo visto nelle ronde di Bloodborne stavolta la luce non è solo il fuoco non è solo portatore di vita e vittoria ma di morte quindi è una cosa interessante poi vedere come subito la fiamma si spenga quando loro muoiono una riflessione una riflessione magari del cacchio però niente mi sono trovato a pensare questa cosa e quindi yeah ciao Carletta bene offro aiuto bene certo io un colpetto glielo davo però lei ha deciso di di pasturarsela così e quindi facciamo una cosa transrumiamo verso l'altare del vincolo perché tanto la direzione che dobbiamo prendere è quella dobbiamo farci la vetta dell'arcidrago e poi abbiamo il castello di Lotrik quindi non ci aspetta ancora un lungo percorso fra l'altro questo se non sbaglio è tipo il video 31 quindi è bello vedere quanto si faccia molto più alla svelta è vero sto facendo video leggermente più lunghi però è bello vedere quanto si faccia più alla svelta conoscendo le cose e fermo restando che stiamo ancora cincischiando dietro a molte cose nel senso che abbiamo visto che ho deciso di fare ancora tante cose secondarie e come vi ricordo se voi sapete che ho mancato un qualche anello fra l'altro mi è arrivato giusto appunto un messaggio che ho lasciato un anello nella palude di Farron vicino ai pallocchi forse devo controllare perché mi è stato mandato il messaggio però non mi ricordo se l'ho recuperato o no e niente se sapete che io ho dimenticato qualcosa in giro dovete dirmelo assolutamente fatemi questa gioia voilà perfetto benissimo io di queste non mi ricordo cosa ho cosa mi manchi cosa ciccia e frischi dovrò poi fare una lista delle cose che ho ma tu ancora qua sei scemo quasi quasi lo ammazzo io a sto punto perché a me personalmente è scassato il cacchio cioè dai ma queste cose già le avevamo vai torna a saccheggiare tanto poi ti troveremo morto al castello di Lotrico oramai lo so cosa ci è rimasto da consegnare a parte due pizze margherita e e ah ok ok anche perché poi dobbiamo andare agli archivi facciamo contento questo povero uomo esatto noto Logan gran cappella vabbè e quindi credo che anche in questo caso abbiamo tutto di nuovo in effetti a me personalmente manca molto il discorso del poter vedere in diretta se abbiamo già questa cosa è scomodo per il trofeo delle piromanzie così è scomodo così a Nasus non abbiamo mancato nulla e non ci sono cose che compaiono solo nei New Game Plus avanzati dovremmo aver raccattato tutto tranno quello che ci può essere venduto tramite le anime di Pistusifu qui ah quindi lui c'era non mi ricordo di questo discorso ma noi in realtà non vogliamo che glielo mostri vero allora adesso che sono a conoscenza dei finali è spaccona questa cosa perché noi per fare il finale 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 fondamentalmente dobbiamo cavare gli occhi uccidendo la guardiana mentre vincola il fuoco e via dicendo da vacui è il finale segreto segreto che sarà il quarto finale che vi porterò perché sto facendo la run d'avacqua con un secondo personaggio in modo da sveltire le cose quindi faremo la terza run in co-op tutti insieme appassionatamente per chi vorrà partecipare come vi dico sempre fatemelo sapere allora intanto dobbiamo pigliare il soffio che non possiamo usare ma lo devo pigliare comunque sì perfetto ah ok maestro della stregoneria ha guadagnato un trofeo in questo momento quindi quello che ci mancava era il soffio del drago bianco e poi se non sbaglio ci mancava tepore lenitivo con l'anima della danzatrice perché mi sono segnato un filino le cose che mi mancavano almeno in questo senso perfetto perfetto quindi di ci mancano ancora tipo la lancia del sole tepore curativo con l'anima di rosaria e tempesta di fulmini con l'anima del re senza nome che andremo a conquistare spero in un futuro molto molto prossimo e molto molto vicino quindi ragazzuoli se volete dare un'occhiata vi do gli occhi della guardiana potete lurcarvi tranquillamente il prossimo video del silver io intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao ora però vado a far colazione perché ho bisogno di un caffè porca di quella pupazza oh silver così vai vai così tu fatti un sonnellino ciao eh alla prossima